La sua nuova e giovanissima fiamma Brad Pitt, ecco chi è la sua nuova e giovanissima fiamma Nuovo amore in vista per Brad Pitt. Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie L'attore sarebbe molto vicino a Ella Purnell, una giovane attrice inglese di soli 21 anni, che ha recitato anche accanto alla sua ex moglie Ben 32 anni di differenza tra i due Ma quello che fa discutere della nuova relazione di Brad Pitt è soprattutto la grande differenza d'età che lo separa dalla giovane Ella La ragazza è nata nel 1996, mentre l'attore nel 1963, quindi ha ben 32 anni in più Pare che Brad Pitt abbia insistito perché Ella Purnell fosse affidato il ruolo da protagonista nella serie tv tratta da Svet Bitter, il romanzo di Stefanie Dandler Ella Purnell è nata a Londra e ha studiato canto, recitazione e danza fin da bambina Il suo debutto al cinema risale al 2010, nel film Non lasciarmi, in cui interpretava il ruolo di Keira Kniegtley da giovane Fonti vicine all'attore parlano di continue attenzioni da parte di Brad, che Ella sembra gradire molto, lei è molto lusingata dalle attenzioni di Brad Ha detto agli amici di averlo sempre considerato la star tra le star La Jolie è furiosa per questo improvviso interesse del suo ex per la Purnell Odia il fatto che si è interessato a una donna che ha interpretato la sua parte, ma nella versione da adolescente, in un film Eh sì, perché la giovane attrice inglese ha recitato sul set di Maleficent, interpretando proprio Angelina Jolie da ragazzina L'ex signora Pitt, infatti, ha più di un motivo per essere infuriata, non solo per la somiglianza con se stessa adolescente, ma soprattutto per il fatto che la ragazza ha solo 5 anni in più di Maddox, il primo dei sei figli della coppia Un divorzio difficile e doloroso La storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie è durata oltre 12 anni, facendo sognare tutto il mondo, tanto che venivano chiamati i Brangelina La coppia è stata la più bella di Hollywood e, quando ha deciso di separarsi, ha suscitato un grosso clamore A causare la rottura dell'idiglio è stata la dipendenza dall'alcol di Brad Pitt, l'attore ha confessato che beveva tutti i giorni Ora pare che sia riuscito a disintossicarsi ma, sebbene molti sperassero in una riappacificazione e in un riavvicinamento con Angelina, purtroppo ciò non è mai avvenuto La Jolie ha superato il difficile momento grazie all'amore per i suoi sei figli, che ora sono la sua unica ragione di vita Solo di recente, infatti, la bella Angelina ha ritrovato il sorriso e la voglia di lanciarsi in nuove sfide Qualcuno ha anche ipotizzato che l'attrice sia stata aiutata da un nuovo amore, che starebbe segretamente frequentando, ma finora restano dei rumors, l'ex signora Pitt sembra avere occhi solo per i suoi ragazzi In fondo, Angelina non ha mai nascosto di provare ancora molto affetto per il padre dei suoi figli, nonostante i brutti momenti trascorsi nell'ultimo periodo, ma la notizia della frequentazione dell'attore con la giovane Ella Purnell ha spazzato ogni speranza di riconciliazione e di ricostituzione dei Brangelina Grazie a tutti